Quali sono i luoghi, i volti, le storie del Piemonte che ispirano la narrativa contemporanea? Ne hanno parlato con garbo e ironia gli scrittori Stefania Bertola e Renzo Rossotti in Pagine di Piemonte. L'incontro ha spaziato fra romanzi sentimentali, gialli, intriganti vicende noir, tutte ambientate in Piemonte e a Torino in particolare.